Natalia Cattellani Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattellani alla prova del cuoco, sono una vera delizia e questa crostata di pasta frolla con ripieno di ricotta e formaggio spalmabile e frutta sarà un vero successo. La creame tart è la torta che ormai vediamo ovunque con la base di frolla e decorazioni di fiori, macarons e caramelle. Natalia Cattellani Ecco dalle ricette dolci di Nat Cattellani la ricetta di oggi della crostata con la frutta. Natalia Cattellani Per la base Succhero a velo, buccia di limone grattugiata, per decorare uno cestino di fragole, mezza vaschetta di mirtilli, tre chiui, pesche sciroppate e preparazione torta alla frutta. La prova del cuoco La scuola La scuola La scuola La scuola Possiamo creare anche un bordino con delle strisce di pasta avanzata o possiamo lasciare solo il disco di frolla senza bordo. Al centro adagiamo un bicchiere capovolto e ritagliamo il cerchio di frolla che togliamo. Abbiamo un cerchio con il buco, e in quel buco mettiamo il bicchiere imburrato sempre capovolto. Bucchierelliamo con la forchetta la frolla. Mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi statico o ventilato, è lo stesso. Facciamo raffreddare e sformiamo la base della torta di frutta. Laviamo le fragole, e le tagliamo a fettine. Tagliamo le pesche sciroppate a fettine. Tagliamo a fettine i chiui, usiamo anche i mirtilli. Quando sarà il periodo della frutta fresca colorata usiamo quella che preferiamo. La ricetta della creamma TART di Natalia Cattellani nella ciotola, versiamo il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo, la ricotta e la buccia di limone grattugiata, amalgamiamo bene e uniamo la panna montata, amalgamiamo con delicatezza. Versiamo la crema nella sacca da pasticcere e creiamo dei ciuffi che riempiono tutta la torta. Disponiamo la frutta creando una bella decorazione. Completiamo con i biscottini. Grazie a tutti.